Stop alle messe ma chiese aperte. Il nuovo decreto sul coronavirus ha cambiato ulteriormente le regole anche per la preghiera. Un cambio arrivato ormai all'alba di domenica è chiarito perciò con una nuova nota della conferenza episcopale italiana nella giornata di ieri. Ecco le novità. Fino a venerdì 3 aprile è sospesa la celebrazione delle sante messe con concorso di popolo sia feriali che festive. Sospese anche le celebrazioni delle eseque. Sì invece all'apertura delle chiese per la preghiera personale. Con grande sacrificio la conferenza episcopale italiana ha accolto l'indicazione venuta dal governo. È un'indicazione molto restrittiva che ovviamente provoca sofferenza e difficoltà nei vescovi, nei sacerdoti e nei fedeli. Però siamo coscienti che questo è il nostro apporto in questo momento preciso per la tutela della salute pubblica. Perciò come avete potuto vedere stamattina anche la messa che TV2000 trasmette abitualmente alle 8.30 è andata in onda rigorosamente senza partecipazione di popolo. E molti sacerdoti in queste ore si stanno organizzando per celebrare su internet e praticamente da soli la messa quotidiana per favorire almeno la partecipazione spirituale al banchetto eucaristico e tenere così acceso il vincolo comunitario nelle loro parrocchie. Va detto inoltre che le disposizioni CEI valgono ovviamente per tutto il territorio nazionale e che in queste ore le singole diocesi le stanno precisando, ad esempio rinviando le benedizioni pasquali nelle famiglie, raccomandando di celebrare il sacramento della confessione fuori dal confessionale, mantenendo sempre un metro di distanza, nonché rinviando pellegrinaggi, visite e attività pastorali. La fede non si spezza, la fede in queste situazioni di difficoltà si rafforza.